Musica Teggiano, vasto incendio adiacente alla strada pedemontana, vigili del fuoco sul posto, attività di spegnimento affidate all'elicottero della regione Campania. Venezuela, fine luglio si vota per la costituente, in Italia messaggi sollecitano il censimento delle proprietà, arriva la smentita di Carlo Villino. Sant'Arsenio, sabato 8 luglio Recruiting Day con l'associazione Monte Bruno Giovani. Monte San Giacomo, ieri sera la comunità ha accolto la vacanza del sorriso. Sport Calcio, prima categoria, il Certosa di Padula riparte dal giovane Americo Sarli. Buonasera, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. Parliamo di cronaca, durante tutta la notte l'area montana di Teggiano è stata interessata da un vasto incendio che ha distrutto circa 10 ettari di bosco. Oltre ai vigili del fuoco e del distaccamento di Sala Consilina e gli uomini della sezione forestale dei Carabinieri, questa mattina è giunto sul posto l'elicottero antincendi della regione Campania per spegnere le fiamme. Vasto incendio divampato nella notte di ieri a Teggiano sulle montagne che costeggiano la pedemontana, la strada di collegamento tra Silla di Sassano e Teggiano. Intorno alle ore 11.30 di ieri sera le fiamme si sono diffuse distruggendo circa 10 ettari di bosco. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, seppur la competenza sugli incendi boschivi, è affidata alla regione Campania, deputata di intervenire in tali casi. I caschi rossi sono giunti sul posto dove sono rimasti stabilmente durante le operazioni a tutela delle abitazioni poste proprio al ridosso dell'incendio e per tutelare l'incolumità di eventuali automobilisti in transito sull'arteria adiacente all'incendio. Solo questa mattina, intorno alle 10.30, è arrivato sul posto l'elicottero antincendi della regione Campania, dando così il via allo spegnimento delle fiamme. Fortunatamente, seppur vasto, l'incendio durante la notte è stato comunque controllato, limitandone la propagazione. Una situazione resa possibile grazie anche alla complicità dell'alto tasso di umidità sul territorio, che si registra in particolare durante le ore notturne e all'assenza di vento, che però nella mattinata purtroppo si è alzato più forte. Sul posto anche gli uomini del gruppo forestale dell'Arma dei Carabinieri, oltre alla Polizia Municipale. Intanto, gli uomini del caposquadro esperto Luigi Morello erano chiamati a verificare che le fiamme, in più veloce espansione a causa delle raffiche di vento, non raggiungessero l'arteria stradale, che è comunque rimasta aperta al traffico, consentendo così ai veicoli di attraversarle in tutta sicurezza. Intanto, l'elicottero della regione Campania si è attivato rapidamente per cercare di domare le fiamme, recuperando l'acqua per lo spegnimento nel fiume Cavarelli, affluente del fiume Tanagro. Nessun pericolo per persone o cose, grazie alla supervisione dei vigi del fuoco, del distaccamento di Sala Consilina e della forestale, che sono rimasti sul posto per tutto il tempo. Torniamo ora a parlare della crisi in Venezuela, perché il presidente del Centro Italiano Venezuelano di Caracas, nonché presidente della Federazione delle Associazioni Italiane del Venezuela, Carlos Villino, interviene in merito ad alcuni messaggi che si sono diffusi da parte di persone italo-venezuelane, che avrebbero chiesto agli italo-venezuelani, residenti che si trovano attualmente in Italia ma anche in Venezuela, di contattarle per censire le loro proprietà in vista della votazione della costituente programmata per il prossimo 30 luglio. Una costituente che andrà anche a regolamentare la proprietà privata su Facebook, e quindi è apparso un messaggio in cui si chiede di contattare l'autrice dello stesso. Arriva ora però la smentita, in tal senso, direttamente dal Venezuela. Carlos Villini, infatti, ha voluto precisare che tali atti, come tutti gli altri atti di uguale natura e comunque di qualsiasi altra natura, aspettano esclusivamente al consolato venezuelano. Inoltre chiarisce che la stessa non è stata autorizzata da nessun ente del Venezuela. Ascoltiamolo. In merito a questa costituente, in Italia si stanno girando delle comunicazioni in cui chiedono di censire le proprietà private. Come si pone a questa notizia la federazione? Io ho ricevuto due o tre comunicazioni di quelli e di immediato mi sono messo a chiamare le zone o la regione dove questa comunicazione nominava, che è una zona centrale del paese. In questa zona centrale nessuno conosce di questa iniziativa. La Camera di Commercio della zona ha fatto una lettera dove ha smentito o ha detto che non conosceva di questi piani. in una di queste comunicazioni ha nominato anche che si dovevano mettere d'accordo anche con il club, il centro italiano venezuelano di Caracas. Noi ancora non abbiamo ricevuto nessuna notificazione. L'ambasciatore le abbiamo domandato e lui ha fatto una comunicazione dove dice o si smarca di tutto questo. Perché? Perché ci sono gli enti consolari che sono quelli che in alcuna maniera può aiutare o può darci la luce di cosa può fare. Ma sì, va bene, io conosco delle persone che hanno preso i loro documenti e se li hanno portati fuori. No, perché l'hanno per il fatto di questa comunicazione, se no per risguardare ciò che sono questi documenti. Ma alla fine fine, se vengono per la proprietà e se si stabilisce nel paese qualche cosa che non è democratico, alla fine, non so, fra 10, 15, 5, 6 anni, uno con questi documenti cosa deve venire a reclamare. Io credo che in una prima comunicazione che io ho ricevuto mette a una comunità intera senza sapere se la comunità è o no contro il governo. E quello non è così. Ci devono essere quelli che sono opposizioni, ci devono essere quelli che vanno col governo, ma hanno messo tutti in un sacco e quello ci ha preoccupato molto perché la comunità intero-venezuelana non si è schierata di fronte a che siamo tutti in contro-governo o che siamo col governo. Allora con questa preoccupazione abbiamo incominciato a lavorare e ci siamo smarcati di ciò che stava a dire le comunicazioni queste che sono arrivati e tutti quelli che hanno domandato, gli abbiamo detto, di stare tranquilli, di stare fermi e di non invadarli a quello che stavano mandando sulle reti sociali. Tutte le documentazioni o comunque tutti i rapporti per quanto riguarda gli italiani e venezuelani, quindi in Venezuela, devono essere su tutte pratiche da effettuare al Consolato o all'Ambasciata? Sono gli unicenti proposti, qua non c'è nessuno, nemmeno i gestori che ci stanno dappertutto collaborando col Consolato e con l'Ambasciata, nemmeno questi gestori ci hanno chiesto niente e ci hanno detto qualche cosa del genere. Io so che se vai al Consolato con il documento della proprietà tua qua, loro non possono fare niente a meno che lo vuoi registrare in Italia, ma questo è un fatto che succede nel Venezuela. Il risguardo dei documenti è una responsabilità dei padroni, dei locali o degli appartamenti o delle ditte. Allora non capisco perché deve avere o si deve dire a qualche ente fuori dal Venezuela cosa abbiamo e cosa non abbiamo nel Venezuela. Quello è qualcosa che non capisco. perché alla fine, come vi ho detto prima, se vengono, se tutto questo cambia e se ne va a un regime non democratico tu puoi avere i documenti, ma poi quando vieni a risfruttare di nuovo le tue proprietà, poi darsi nemmeno esistono. Sabato prossimo, 8 luglio, è il giorno atteso del Recruiting Day presso la sede della Banca Montepruno. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Montepruno Giovani, preseduta da Giuseppe Nese e nasce con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro su tutto il territorio. La Banca Montepruno farà da anello quindi di congiunzione tra le imprese alla ricerca di figure professionali specifiche e coloro che sono alla ricerca di un'occupazione. Circa 50 le posizioni lavorative disponibili per circa 30 aziende che hanno partecipato all'iniziativa. Sabato prossimo, 8 luglio, dunque, a partire dalle ore 9.30, presso la sede amministrativa dell'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese si terranno i colloqui di lavoro, ma ascoltiamo le dichiarazioni in merito del Presidente Giuseppe Nese. Il Recruiting Day è un'idea nata un po' per caso, nata da lontano ma per caso. Sono un paio d'anni che pensiamo di fare qualcosa di veramente concreto sul nostro territorio. Come ben sapete le attività dell'Associazione Montepruno Giovani, supportata dalla Banca Montepruno, ormai dal 2012 vanno avanti in maniera costante, però volevamo fare qualcosa che avesse un segno importante sul territorio. Allora abbiamo deciso di incontrare domande e offerta di lavoro, lo abbiamo fatto coinvolgendo tutte le aziende, clienti della nostra banca e tutti i ragazzi del nostro territorio. Sono uscite circa 55 posizioni lavorative aperte sul nostro territorio e l'adesione ovviamente da parte dei ragazzi è numerosissima. Un'idea che sta valicando i confini del Vallo di Diano e della Regione, ha avuto interesse a livello nazionale. Un'iniziativa che ci riempie d'orgoglio, speriamo che si riesca a concretizzare qualche opportunità di lavoro e faccio appello a tutti i ragazzi del nostro territorio di cogliere queste opportunità perché non capita tutti i giorni di avere un'azienda che ti cerca e in questo caso è veramente così. Le aziende del territorio si sono messe a disposizione, hanno aperto le loro porte ai ragazzi del territorio e i nostri ragazzi hanno la qualità per essere assunti, per iniziare a lavorare su questo territorio perché come diciamo sempre le nostre energie devono essere spese qui e non altrove. Abbiamo cercato di fare qualcosa di estremamente semplice, abbiamo dato ai ragazzi tutti i posti di lavoro aperti sul territorio, gliel'abbiamo messi su carta, gliel'abbiamo forniti, gliel'abbiamo portati praticamente a casa, quindi i ragazzi non devono fare altro che presentare le proprie credenziali, il proprio curriculum vitae e candidarsi e dare tutta la loro energia per poter guadagnare il loro futuro qui sul nostro territorio. Come si svolgerà la giornata di sabato? La giornata di sabato si aprirà alle 9.30 del mattino, ci sarà un breve convegno di saluti, di benvenuto a tutte le aziende e a tutti i ragazzi presenti, alle ore 10 inizieranno i colloqui, ogni azienda avrà a disposizione nella nostra struttura di Sant'Arsenio un box dedicato e qui tutte le persone responsabili delle risorse umane delle singole aziende esamineranno i candidati e faranno dei veri e propri colloqui di lavoro. è il termine della giornata, speriamo fortemente si possa concretizzare qualcosa di importante. E come ha sottolineato anche il presidente dell'associazione Montepruno Giovani Giuseppe Nese, in merito proprio al successo che sta riscuotendo anche a livello nazionale il Recruiting Day, ne è testimonianza i dati auditel della trasmissione andata in onda ieri mattina, una mattina estate sul Rai 1 che ha visto protagonista proprio la banca Montepruno e il Recruiting Day. I funzionari della Rai infatti hanno reso noto che secondo i dati ufficiali il picco di ascolto della trasmissione di ieri mattina si è registrato proprio nel momento in cui la giornalista e conduttrice Valentina Bissi ha intervistato Cono Federico, vice direttore generale della banca Montepruno che ha presentato l'iniziativa in programma per sabato prossimo 8 luglio a Sant'Arsenio. I dati ufficiali parlano di un seguito della trasmissione di ieri che ha raggiunto il 19,50% di share con la Rai che ha manifestato grande soddisfazione proprio nel parlare del successo ottenuto della puntata di ieri in generale ed in particolare del momento in cui il dottor Federico è stato intervistato e ha parlato dell'iniziativa. Ascolti stellari scrivono nel comunicato dalla Rai puntata 19,50% di share con Federico al 23%, picco della puntata. Queste le parole nel comunicato della Rai ufficiale. Cambiamo ora argomento, la sessione dinamica della vacanza del sorriso nel Vallo di Diano giunge oggi al quarto giorno nel Vallo di Diano, intanto ieri sera i bambini e le loro famiglie sono stati accolti dal calore della comunità di Monte San Giacomo. Continua il tour della vacanza del sorriso che con la sua sessione dinamica sta girando il Vallo di Diano. Le 12 famiglie sono arrivate sabato, resteranno fino al prossimo 8 luglio. Anche con qualche cambio rispetto al programma ufficiale, nonostante qualche ospite abbia dovuto rinunciare all'ultimo momento per motivi personali, tutto procede alla grande. Merito dell'efficienza organizzativa dell'associazione Cilento Verde Blu e del forte spirito di solidarietà valdianese. Ieri sera ospiti della comunità di Monte San Giacomo, i bambini e le famiglie sono stati accolti con calore e tanta allegria. Tutta la comunità ha partecipato cucinando i piatti tipici della tradizione locale, in linea con il piano alimentare elaborato per questa edizione grazie al contributo della dottoressa Marzia Manilia e che si sta rivelando un'iniziativa riuscita, come dichiarato dall'organizzatore Giuseppe Damiani, che ha avuto modo di constatare come, in base a quanto raccontato dalle stesse famiglie, i bambini stanno apprezzando tutti i diversi menu, che da queste parti sono soprattutto a base di verdure e legumi, con cui le varie comunità li stanno accogliendo. Come è successo ieri sera a Monte San Giacomo, dove hanno gradito il piatto tipico delle patane cicce, una purea a base di patate e fagioli, per la gioia delle mamme e dei papà. Ma la vacanza del sorriso non è solo cibo, trattandosi di bambini e soprattutto divertimento. E infatti ieri sera è stata una grande festa, grazie all'impegno profuso dalle diverse associazioni locali, come gli amici del teatro di Monte San Giacomo e la SD Budo Gym, con la coreografa Noemi Camagna, che hanno allestito spettacoli di canti e balli, coinvolgendo i piccoli ospiti fino a tarda sera. Non sono mancati palloncini e cartelloni festosi, con cui i ragazzi del servizio civile dell'oratorio della parrocchia San Giacomo Apostolo hanno vivacizzato la villa comunale Rico 40. La serenità che ieri sera si leggeva sui volti dei bambini e dei loro genitori, testimonia il valore della vacanza del sorriso, un'iniziativa che ormai è dimostrato, ha sul morale dei piccoli un impatto estremamente positivo, che inevitabilmente si estende al resto della famiglia. E ascoltiamo ora le interviste realizzate ieri sera all'arrivo a Monte San Giacomo degli ospiti della vacanza del sorriso. È la terza volta che noi ospitiamo i bambini e i genitori che partecipano alla vacanza del sorriso che l'associazione Cilento Verde e Blu da circa 12 anni, credo, sta organizzando e da 4 arriva anche nel Vallo di Diano. Noi il primo anno abbiamo partecipato non direttamente ma abbiamo comunque condiviso questa bella iniziativa e sono tre anni invece che ospitiamo di sera al fresco e quest'anno in particolar modo nella Villa Comunale, questi nostri ospiti che naturalmente vivranno, spero, non solo la bella serata qui a Monte San Giacomo ma una bella settimana nel Vallo di Diano. L'associazione Cilento Verde e Blu diretta e guidata da Giuseppe Damiani veramente ha fatto a mio avviso una cosa straordinaria nel pensare di offrire un momento di relax, un momento di vacanza a delle persone, non solo ai bambini ma soprattutto ai genitori che naturalmente soffrono quotidianamente per la malattia dei propri figli e quindi ecco poter regalare il sorriso, poter regalare un po' di spensieratezza, poter regalare un po' di serenità, credo che per tutti è un gesto sicuramente bello. Quando siamo venuti qui in questo posto abbiamo trovato un paradiso, veramente un paradiso e vedo che questa nostra bambina è felicissima e così abbiamo incontrato la gente, l'atmosfera, tutta proprio che bambina ogni giorno lei vive in felicità. Lei come ha conosciuto questo bambino? Questa bambina l'ho conosciuta tramite i miei amici ucraini che per un caso proprio da loro hanno cominciato a aiutare questa bambina a Kiev in ospedale, però in ospedale era situazione terribile perché non c'erano medicamenti, medicina, tutte cose, poi anche la mamma doveva pagare tanti soldi che non ha avuto questi soldi, lei ha venduto quello che poteva vendere per far guarire la bambina e non c'era speranza proprio, solo bisognava fare trappianto e midollo. E l'avete aiutata voi dall'Italia? Sì, abbiamo trovato una possibilità di partarlo qui a Bologna e con successo hanno fatto questo trappianto midollo e lei adesso sta guarendo. E come avete conosciuto i ragazzi della vacanza del sorriso? L'ho conosciuto proprio per un caso perché mi hanno chiesto proprio aiutare, io non sapevo dove vado, io cosa trovo, proprio siamo con i bambini, siamo incantrate in treno e allora dopo ho cominciato a conoscere questo un po' di programma e poi ho telefonato Giuseppe e con questa voce molto affascinante, così molto tranquilla, già ha cominciato il nostro paradiso. Dopo il successo del concorso fotografico indetto dalla comunità montana Vallo di Diano e che ha permesso di raccogliere numerose foto di alberi monumentali distribuiti su tutto il territorio valdianese, ora arriva un sito internet dedicato che raccoglie queste immagini in un museo virtuale. Recependo la normativa nazionale varata con la legge numero 10 del 14 gennaio 2013, la comunità montana Vallo di Diano con il settore foreste negli anni scorsi ha varato un concorso fotografico rivolto soprattutto alle scuole per individuare gli alberi che per storia, forma e caratteristiche conformi alla norma possono essere definiti alberi monumentali. Un concorso che ha permesso di scoprire un nuovo mondo nel Vallo di Diano con immagini di alberi provenienti da tutti i centri valdianesi che sembrano delle vere e proprie opere d'arte e che per la loro lunga vita portano chi li osserva a chiedersi quante verità storiche oggi nascoste potrebbero raccontare. La comunità montana Vallo di Diano, presieduta da Raffaele Accetta, di concerto con il settore forestazione dell'ente montano, il cui responsabile è Beniamino Curcio e con il referente del progetto La Città Educativa, Gennaro Gonnelli, hanno raccolto le spettacolari immagini di questi primi e speciali abitanti tutt'ora in vita nel Vallo di Diano e le hanno pubblicate su un sito internet attraverso la realizzazione di un museo virtuale. È nato così il sito www.museodegalberimonumentali.it in cui è possibile ammirare gli storici e caratteristici alberi con le descrizioni dei luoghi in cui sono collocati. Il sito, realizzato per rafforzare il percorso avviato tempo fa con la realizzazione del concorso fotografico Gli Alberi Monumentali, Testimonianze Storiche ed Ambientali da Tutelare, è promosso dall'Associazione Civicrati Cipollesi e Città Educativa Vallo di Diano. L'obiettivo è sensibilizzare verso l'amore per la natura e l'ambiente circostante. Queste ed altre iniziative sono infatti adottate con la finalità precisa di far conoscere le numerose bellezze naturali di cui è ricco il Vallo di Diano e nel contempo di attivare progetti e iniziative in grado di proteggere il patrimonio naturale da eventuali aggressioni quali incendi boschivi, cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico. Le foto pubblicate sul sito sono state realizzate dai ragazzi delle scuole valdianesi. L'auspicio, si legge sul sito internet, è che le immagini di questa piccola pubblicazione possano contribuire a stimolare un'azione attiva ed efficace da parte di tutti per garantire la tutela e la corretta gestione degli alberi depositari della nostra memoria collettiva. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg, andiamo a Teggiano dove è stato istituito l'ufficio Europa con l'obiettivo di creare prospettive di sviluppo per l'intero territorio e sopperire al vuoto istituzionale che caratterizza le aree interne. Abbiamo raggiunto, ha dichiarato il sindaco di Candia, un risultato annunciato in campagna elettorale. E' stato istituito a Teggiano l'ufficio Europa. L'idea nasce dalla partnership tra l'amministrazione comunale e la QS Partners di Salerno per conferire alla città Museo una spinta nuova e allo stesso tempo creare i presupposti per una visione sociale ed economica che guardi alla cooperazione e alla partnership nazionale e internazionali come occasione per lo sviluppo dell'intero Vallo di Diano. L'ufficio si trova presso la sede del Comune in Piazza Municipio e sarà aperto per l'attività di front office il sabato dalle 9 alle 13. Soddisfatto il primo cittadino di Teggiano, Michele di Candia. Lo sportello Europa è un obiettivo fondante per la nostra campagna elettorale, l'avevamo messo come obiettivi e ci siamo riusciti. Ora questo sportello che apriamo e facciamo partire serve per dare informazioni e accompagnare tutte quelle che sono le iniziative che vanno nella direttiva delle nuove misure PSR e alto. Non a caso noi questo già l'abbiamo avuto come fiuto nel passato, tant'è che abbiamo presentato durante la nostra campagna elettorale la filiera. La filiera era proprio questa che si partiva dal Comune e si arrivava alla comunità europea. Ebbene questo è quello che stiamo andando, stiamo proseguendo come linee e ce la metteremo tutto, speriamo bene per tutti quanti noi. Il nostro territorio ha bisogno di queste regie, l'unica cosa non è facile perché è un momento difficile direi per tutta l'Europa, per quello che sta succedendo a livello nazionale e a livello europeo. Però noi dobbiamo stare attenti a piano piano queste risorse che ci sono e che vengono messe a disposizione sono risorse che le bisogna catalizzare in un certo modo e indirizzarle in un certo modo. Torna anche quest'anno l'atteso Tocco Film Festival, la rassegna di cortometraggi che ogni anno si tiene nel centro storico di Sala Consilina. L'appuntamento è per il 29 e 30 luglio. Sono state ufficializzate le date del Tocco Film Festival, la rassegna di cortometraggi si terrà quest'anno il 29 e 30 luglio. Come di consueto ad ospitarla la Chiazzaredda, Piazza Gracchi nel centro storico di Sala Consilina. 15 i cortometraggi che hanno passato la fase di preselezione e che gareggeranno per i premi finali. Quest'anno la shortlist è l'icca di elementi provenienti da varie parti del mondo e corti pluripremiati in vari festival di cinema internazionali. La giuria, i cui membri saranno resi noti nei prossimi giorni insieme alle altre novità dell'edizione 2017 attraverso la pagina Facebook dell'evento, avrà il compito di assegnare i tre premi per il miglior cortometraggio, la miglior regia, il miglior corto d'animazione. Ci sarà inoltre un ricco programma per le sezioni parallele, con proiezioni di corti fuori concorso e di prime, oltre a incontri con autori, attori e registi. L'ufficializzazione delle date avviene poco dopo il primo evento della stagione firmata a Tocco, conclusosi con l'evento del 28 giugno scorso presso il Gran Caffè Trezza Tatteggiano. L'incontro con il regista Nastro d'Argento 2015 Nicola Ragone e la proiezione del suo ultimo lavoro Urli e Risvegli hanno riscosso un notevole successo di pubblico. L'evento è stato realizzato con la collaborazione dell'associazione Elò Vallo di Diano, che ha guidato il regista e il poeta Carmine Donno attraverso un viaggio tra le bellezze del Vallo di Diano, dell'associazione Oligo Cheti che ha fornito il buffet basato su specialità del territorio e dell'associazione Ipazia che ha tracciato la via con il cineforum che si è tenuto al Gran Caffè Trezza negli ultimi mesi. Proseguono le attività della neocostituita associazione Factotum di Sassano. Il prossimo 15 luglio si presenterà un nuovo progetto. Pietro Cusati ha intervistato per noi Antonella Inglese, la presidente dell'associazione. Il 15 luglio presenteremo lo sviluppo di quello che è stato il progetto architei che abbiamo presentato il 19 maggio scorso e che è un progetto che prende il nome di Quartour. Si tratta di un itinerario tecnologico questa volta che però va ad abbracciare tutte le prospettive turistiche del nostro territorio. Quindi si tratta di un percorso naturalistico, di un percorso religioso, di un percorso anche culturale, architettonico. Vi invitiamo a tutti tutti voi alla presentazione il 15 luglio mostrandovi questo nuovo strumento. Atena Lucana, centro storico. Sì, centro storico di Atena Lucana, un centro storico che è veramente molto affascinante. Noi nelle nostre ricerche abbiamo trovato un territorio, abbiamo scoperto un posto ricco di curiosità e che abbiamo voluto valorizzare attraverso questo strumento che è Quartour, che consiste sempre in un itinerario che attraverso questi Quart Cod disseminati lungo vari percorsi vengono scansionati. All'interno ci sono delle schede con delle curiosità, con delle foto e anche tradotte in lingua tedesca e di inglese. Passiamo ora al calcio. In prima categoria il Certosa di Padula ha ufficializzato la guida tecnica per la prossima stagione calcistica 2017-2018. A guidare il gruppo sarà Americo Sarli. Dopo un anno e mezzo di guida Tonino Spinelli che ha regalato una doppia salvezza tranquilla al Certoso di Padula, la squadra cambia guida tecnica. La società del presidente Anania ha scelto il nuovo allenatore, sarà Americo Sarli, giovane tecnico classe 86 che vanta già un'esperienza pluriennale. Dopo l'esperienza nel settore giovanile del Valdiano ha guidato la prima squadra della stagione 2015-2016 in coppia con Daniele Morea. Lasciato il Valdiano Sarli si è dedicato di nuovo al settore giovanile con l'ASD Sporting Sala Consilina prima di accettare l'incarico della prima squadra della città del suo paese. Americo Sarli ha anche indossato da giocatore la maglia della Certosa di Padula e per lui una motivazione ancora più grande di far bene. Lo seguiranno in questa avventura Nico Gallo, vice allenatore, Maurizio Gallo, preparatore dei portieri, Luca Cavella, massaggiatore, mentre la società ha affidato lo storico capitano Antonio Astorino il ruolo di team manager. L'ufficialità della notizia è arrivata sabato scorso con la presentazione presso la Certosa di San Lorenzo. Il Certosa di Padula sarà in astri di partenza del prossimo campionato di prima categoria ed ora, individuato il tecnico, non resta che allestire la squadra che disputerà il prossimo campionato. Ed era questo l'ultimo servizio di oggi. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.